Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato nelle zone del terremoto a Matrice, Accumuli, Arquata e Pescara del Tronto. Il Capo dello Stato ha ribadito l'importanza della scuola e del lavoro. I cittadini hanno chiesto a Mattarella di aiutarli a far ripartire soprattutto le attività produttive, indispensabili anche per l'economia dei territori. Il problema delle macerie insiste ancora su quei luoghi e Mattarella ha promesso che a breve verranno portate via. Manca la rimozione infatti delle macerie cosiddette private. Naturalmente non è la prima che faccio e non sarà l'ultima certamente. Si sono fatti questo luogo già di questo centro di raccolta e di attività, di alimentazione e di cultura. È significativo, sono fatti diversi passi avanti. La scuola, le abitazioni provvisorie, le attività economiche, vi è un registro tanti passi avanti. Naturalmente è un punto per dire che vi sono tanti altri passi da fare ulteriormente, con velocità, per rendere definitiva la sistemazione. Occorre la ricostruzione, la rimozione delle macerie, la ricostruzione per far tornare non soltanto a Matrice, ma anche agli altri comuni che ho già visto, Arquata e Accumuli, alla condizione in cui erano prima. La regione Lazio, siamo qui nel Lazio, ha fatto già un grande affidamento per la rimozione di tutte le macerie. Erano state rimosse quelle di edifici pubblici, che è più facile perché non richiedono il consenso o l'informazione ai privati. Si è fatto questo grande affidamento di lavori, con un grande finanziamento per togliere tutte le macerie adesso e quindi in prospettiva breve questo avverrà. Naturalmente anche quello è un altro passo, occorre poi la ricostruzione che è il vero passo importante. Il capo dello Stato si è intrattenuto a lungo con i terremotati, fa effetto vedere quelle zone completamente dimenticate, come se i mesi non fossero mai passati. Per non parlare della situazione abitativa delle case, stridono con le soluzioni trovate all'Aquila nell'immediato post-sisma. Tutti promettono l'impegno, i cittadini vogliono vedere finalmente i fatti, non vogliono essere dimenticati. L'interesse non scemerà, questo ha assicurato Sergio Mattarella.